Rivediamo Aprire, comprendere la sfera, avanzare, primo peggio Cambio il ruolo, prendo la sfera e vado a destra Afferrare la goglia della voce, aprivi, tirare, prendere e respingi Comincia la spirale della frusta, uno, due, tre e aprivi Chiudere il centro, chiudere, avanzare la mano Scendere, portare le gare, dai novi Spazio dare il ginocchio, una volta scopata E poi studiare il suo manovino Di nuovo, tre volte spazio dare il ginocchio e ancora su me e ancora su me e ancora su me e poi scendere sinistra con maritunio e non mi riusciare la traccia, se potete fare un modo di avanzare, se così come vedi qua, con un momento, aprire, e scherzo, e scherzo. E quindi le differenze con la 24, sono i pelli, diciamo. Qui, diciamo, il ragione del pass è ok, non si segue assata, ma si accorpana. Beh, anche pugna è diversa, non è che lo diamo questo? Dall'inizio. No. Poi la frusta, la frusta è che, questo è dovuto espirare, diciamo che. Poi, va bene, non passare le mani, non c'è da 24, che ho riposto del... di giù qua. Poi, va bene, se lo hai vicino, giù, lo faccio vicino, il pugno, anche qui, è veramente diverso, perché, nella 24, lo stiamo, diciamo, c'è rispetto al doppio scicchio, quindi passa dentro, ok? Invece qui è come, invece di pensare a essere un po' più, diciamo così, è una traccia sul corso, un po' più, oppure cosi, un po' più, e lo sconfino, il pugno, il pugno, il pugno, il pugno, il pugno, va bene. Ok. Come va?